Centro, destra, nel campo 5, la difesa rimane a 3, a fianco a te c'è Gushi, alla tua sinistra e Luca dall'altra parte, Samuel è sulla fascia, Michele dall'altra parte sulla fascia, le giornate non Michele a tanta cosa, però non è che possiamo fargli sempre fare i 50 metri, ok? Siamo di fargli pari 30, 30, e mi raccomando, guardate questi, è visto, la zona è una domanda, mi mettiamo la discendente adesso ragazzi, Mattia, Raul, Nico, Mattia, Raul, Luca, Nico e Luca, Luca, Silvio, Luca. mettete le pettorine